E' stato siglato oggi dal Sindaco De Magistris, dal Dipartimento di Studi Umanistici della Federico II e dai sindacati CGL e Cisle Will il protocollo d'intesa per la realizzazione di percorsi di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto alla violenza di genere nella più grande azienda pubblica del territorio, il Comune di Napoli. Scopo del protocollo è ideare campagne di informazione sulle normative e l'offerta di servizi dedicati alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere realizzare percorsi di informazione e prevenzione in tema di tutela delle pari opportunità e infine attuare un percorso di sensibilizzazione e divulgazione sul contrasto della violenza di genere rivolto ai lavoratori del Comune attraverso tre step un intervento formativo ad hoc per i dipendenti con l'elaborazione di una carta di contrasto alle molestie e alla violenza sui luoghi di lavoro la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione rivolta sia ai dipendenti che all'esterno ed infine il consolidamento della best practice con la valutazione e la documentazione delle esperienze acquisite Sì, è un evento abbastanza importante, devo dire la verità, perché è una cosa che abbiamo perseguito da molto tempo finalmente si è realizzato, c'è un impegno sia da parte dell'amministrazione che da parte dei sindacati e dell'università di lavorare nella direzione di diffondere e sensibilizzare tutti i lavoratori su questa tematica cominceremo subito con la distribuzione di un questionario per vedere la qualità della sensibilità rispetto a queste tematiche e poi abbiamo intenzione di proseguire con corsi di aggiornamento, tematiche che si possono affrontare nel confronto continuo è importante che sia diffuso in tutti gli operatori del comune e anche quelli che lavorano all'interno dei sindacati quindi è un passaggio importante questo per la città di Napoli